Nel 25esimo anniversario del massacro di Srebrenica, il pittore bosniaco Safed Zez dedica una mostra alle vittime in una sede simbolica, la vecchia fabbrica di batterie per auto a Potocciari, che fu la base dei caschi blu dell'ONU che non fermarono la strage e che oggi fa parte del memoriale. Questo è un evento unico, dice l'artista, un'occasione rara, forse per la prima volta nella storia delle opere d'arte dedicate a una grande tragedia vengono esposte nel luogo dove sono stati commessi crimini che vengono commemorati. Provo molta ansia, mi interrogo sul significato del lavoro che ho fatto. La mostra sarà aperta fino al 7 ottobre. Zez, uno dei più grandi artisti viventi bosniaci, fuggì a Udine nel 1992 per sopravvivere al conflitto nell'ex Jugoslavia. Fra l'11 e il 17 luglio 1995, Srebrenica, l'esercito della Repubblica Serba di Bosnia e Darzegovina del generale Ratko Mladic, trucidò oltre 8.000 musulmani bosniaci, fra cui anche minori.